buongiorno fiamme e benvenuti in questo nuovissimo super video dove oggi proverò tre dei video più virali di ginnastica trending su tiktok e abbiamo un ospite molto speciale miss valeria vedo atti ciao ragazzi finalmente siamo di nuovo insieme questa volta insieme nell'unità di america sono venuta a trovarla fino a qui fino a qui io ancora non ci sto credendo ma ci stiamo divertendo così tanto mamma mia io non so come come farò quando lei parte adesso abbiamo fatto talmente tanti tiktok e balletti e coreografia andate sul suo canale quindi anche in italia aspettatevi grandi cose perché ci rincontreremo sì assolutamente le nostre strade non si separano qui no no non è la fine iniziamo subito se provate duettare è una parola oh sì è duettare è una grande parola brava wow thank you vogliamo vedere i vostri video quindi tagateci tagateci vi aspettiamo iniziamo questo è il primo tiktok abbastanza facile eh sì usciamo dai dai più o meno io vorrei provare ad essere quella sopra perché ho voglia di provare questa ebrezza così delle cose ok e quindi è tutta la mia responsabilità di non farti ferire sì attenta perché devo stare ancora un mese e mezzo qui quindi non voglio spaccarmi nessun osso grazie ok 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 la mia testa ok ok prima ti sdrai e poi io mi alzo giusto siamo molto male devi prendere così è tipo lasciare scorrere non è prendere ok 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 agora ho giusto puoi vedere siamo troppo morti è molto facile è lindo ormai noi con le cellule professioniste ragazzi noi potremmo fare i tiktok fino a lunedì notte abbiamo fatto dei trend assurdi dateci un voto nei commenti siamo fortissime se aggiungiamo qualcosa per renderlo più figo per i video che posterò su tiktok ci sarà un sorpresa andate a vedere le sorprese su tiktok livello 2 ragazzi diventa sempre più difficile ogni livello quindi il primo easy easy ora ho un po' di ansietta però credo in noi chi cade e chi prende l'altra? non lo so scegli tu tanto ormai mi sono rassegnata al mio destino questa volta mi mi lancio io questa volta mi devo fidare di te sotto le tue scelle sotto le tue scelle qua vengono facciamo un altro sfumo male si cado un po' sorda tu devi agganciarti bene ai miei devi agganciarti le mie scelle tu devi agganciarti ti devi mantenere entrambi i addominali se tu vai indietro così io salgo perché io salgo la tua spinta quindi io ti porto su anche con i piedi mi porto su quelli piedi così che è io aspettavo aggrappati bene devo essere più tese cioè devi avere le gambe piegate devi avere le gambe tesi ok abs workout ok oh my god perché io divento la banana devo stare dura io aspetta proprio a mozzarci ok ti sto tirando non mi sono ammossa neanche di mille ero giù così è difficile si compra questa deve avere i piedi più vicini non devi cadere però tutta lì cioè non proprio tutta legno il tipo si appoggia un po' è vero si cade giù proprio bam cioè fa paura infatti fa paura per tipo aggrappati bene ok vai via scelle dai 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 siamo troppo forti mi fai il trucco era portare più vicine le gambe per questo chiedo dovrò fare il tiktok con la Vale perché facciamo finché perfetto deve essere ok ok quindi lento poi boom vai lì 3 2 1 vai è un po' è un po' ero tutta storta ero tipo così oh my god livello 3 è più difficile oh mamma mia raga ho ansia uno di farla cadere e due di prendere una piedata in faccia queste sono una ginocchiata peggio ancora io proverò a non calciarti in faccia io proverò a non farti cadere io proverò a non farti cadere di testa ok buon affare oh 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 mi sto tirando completamente della tua porta oh my god ok qual è il braccio più forte? io devo saltare e fare un teso oh ha preso l'altra mano dove la metto? oh no non serve un casco veramente ok wait allora come ti prendo così col braccio io tipo sì questo però questo qua così esatto e questa mano qua e poi mi alzi e mi lanci scherzo anche io quindi verrà qua e poi quando mi alzo ah e questa la lascio questo lo tieni e mi accompagni per il salto e questa è il salto così ok questa mano non è... sono i miei amici non li li non li li ok 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 ho capito ok 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 fammi fare un attimo un salto dietro ok 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 io direi ci lanciamo e vediamo cosa succede ok 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 1 2 3 2 2 2 3 3 5 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 ok che possiamo fare? devo spingere in avanti il bacino allora vediamoci bene con questa ci abbiamo quasi le gambe sono un po' bigate potrei fare le bibelle però adesso lo miglioriamo un po' non è facile sembra che tenere non sia niente in realtà sta facendo un gran lavoro di pesi sta facendo un workout è normale che fai pesi quando sei a milano che stavi preparando per quello squat yeah oddio non pensavo andassi mi sono sulla prova sentivo che non mi stavo tenendo io non avevo pensato fosse una prova per vedere il giro questa mi parte mi vola anche perchè non avevamo bene neanche la mano cioè io non mi sono partissime mazza questa no però questa devi legarla non fai tenerla lì perchè anche ora la tenuta libera quell'altra è difficilissimo non usare le braccia da per saltare e infatti è quella la cosa complicata in realtà perchè il movimento ovviamente lo sa fare e senza braccia sto dando che è impossibile cioè letteralmente fare così e quindi devo fare io la parte delle braccia mi fermo un po' di lavoro in più su questa challenge ragazzi ma torneremo torneremo più forti che mai anche i migliori sbagliano ragazzi sì siamo partite facendo le fighe troppo easy il karma torna ragazzi andate su tiktok per vedere i nostri bellissimi fail no dai anche le nostre challenge venute splendidamente nelle scorse è la manche è come il round la prima manche la manche si basta no anche in italiano ci ho provato raga i primi due manche sono venuti bene comunque esatto quindi andate a vederli su tiktok vi aspettiamo aspettiamo vostri duetti mi raccomando non provare l'ultimo non fatelo a casa con i fratellini e le sorelline no perché finisce male gli altri sono già più fattibili sì magari con un crucino sotto se tipo quello se non è con qualcuno magari che vi da un supportino giusto giusto all right xoxo al prossimo video un super grandissimo grazie a Valeria ti voglio tantissimo bene anche io ho amato lo stato tempo insieme qui in America andate a vedere i suoi video che fanno straridere mi raccomando che il fuoco sia dentro di voi xoxo vuoi fare tu un altro? ciao mi manda fuori di testa quando non capisco una roba di ginnastica potrei stare qui tipo ore e ore e ore vi ricordate il video del corchina? ma dovrei fermarmi va ma non riesco cioè devo devo capirlo devo farlo ciao 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 ciao